Il palazzo Chigi ha approvato la lista delle 130 priorità in Italia, ferrovie e autostrade per rilanciare il paese con 200 miliardi disponibili, ancora incertezza per il raddoppio termo Lillesina. Il centrodestra fa quadrato attorno al governatore, la maggioranza in consiglio regionale ha respinto compatta la mozione di sfiducia, Iorio si è astenuto, Toma ha esortato a rilanciare l'attività del governo, critiche dalle opposizioni. Uomo annegato indaga la Capitaneria, ha aperto un'inchiesta sulla tragedia avvenuta a Termoli, il 54enne di Campobasso era affidato ad una comunità di sostegno di Campolieto. Spotto sul Molise, cresce la protesta, mancano le immagini dei comuni dell'Alto Molise, i sindaci della zona chiedono alla presidenza del consiglio regionale di rimediare all'errore. La Magnolia ingaggia Samantha Ostarello, l'italo-americana, anche nazionale azzurra, giocherà a Campobasso, le ragazze del basket si preparano allo storico debutto in A1. Buon pomeriggio dalla redazione di Tele Molise, dunque il Consiglio dei Ministri ha approvato l'elenco delle 130 opere considerate prioritarie per l'Italia, che saranno finanziate con il decreto grandi opere. Il Molise è presente solo per il tratto del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina, ma è rimasto fuori dalla spartizione dei 200 miliardi messi in cantiere. Il decreto non è ancora pronto, sta ora alla Regione, ai parlamentari, tentare di inserire anche il territorio regionale. Intanto però polemiche dall'assessore regionale Niro, che dice il Ministro De Micheli, ci ha ignorato. Sentiamo Giovanni Di Tota. Una rivoluzione senza precedenti, l'ha definita il Premier Conte al termine dell'incontro fiume a Palazzo Chigi, al termine del quale è stato predisposto il pacchetto grandi opere. Una scommessa da 200 miliardi che prevede il via 130 opere con norme facilitate per assegnare lavori al di sotto dei 5 milioni. Sul piano legislativo sarà alleggerito l'abuso d'ufficio per evitare rallentamenti nell'iter burocratico. Ma da questa grande rivoluzione è scomparso il Molise. Nella lista dei progetti prioritari ci sono il Mose di Venezia, la Gronda di Genova, la Salaria, la statale 106 Onica, le dighe in Sardegna. La parte del Leone la fa il sistema ferroviario per il quale il nostro territorio è lambito solo per il raddoppio della termoli lesina. Ma la fascia centrale della penisola, quel territorio per anni definito cerniera e considerato strategico per il collegamento fra il Tirreno e l'Adriatico, è stato del tutto ignorato. L'intero Molise, l'Alto Sannio, il Basso Lazio restano terra di nessuno. Lo ha ricordato anche l'assessore ai trasporti Vincenzo Niro, citando la frana di Petacciato tra le più grandi d'Italia. Se dovesse malauguratamente rimettersi in moto, ha detto Niro, il collegamento fra Adriatico e Tirreno e quello ferroviario Nord-Sud andrebbero in tilt. L'assessore ha anche rivelato di aver sollecitato più volte il tema al Ministro dei Lavori Pubblici Paola De Micheli, che però non ha mai risposto alle richieste di un incontro negli ultimi dieci mesi. A questo punto, ad essere chiamata in causa, oltre a un eventuale intervento della Conferenza delle Regioni, è anche la sparuta delegazione dei parlamentari molisani. Lo spiraglio per non rimanere a bocca asciutta al tavolo di questa gigantesca torta miliardaria l'ha lasciato aperto proprio il Premier. Conte, dopo il voto in Consiglio dei Ministri, ha dichiarato che il pacchetto delle opere è approvato e ora se la vedranno i tecnici salvo intese. Ed è proprio quel salvo intese che certifica che l'accordo politico su quella che è stata considerata la madre di tutte le riforme non è stato ancora perfezionato. Ed è in questa fessura che il Molise ha l'obbligo di infilarsi strade e ferrovia, le infrastrutture di cui il territorio molisano ha vitale bisogno. Il decreto sulle grandi opere non c'è ancora e su questo carro bisogna salire al più presto se si vuole evitare che quel tratto di penisola che separa i due mari resti solo una bellissima idea incompiuta. E intanto il raddoppio ferroviario Termoli-Lesina è stato approvato dal Ministero dei Trasporti e contemporaneamente bocciato dalla Commissione per l'Impatto Ambientale. La Lega attacca e parla di confusione agghiacciante del Governo mentre Antonio Federico difende l'operato dei Ministri e punta il dito contro quello che definisce uno sciacallaggio politico. Sentiamo Manuela Iorio. Il progetto definitivo del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina è stato approvato dal Ministero dei Trasporti. Nei lotti che interessano proprio Termoli, Campomarino e Campomarino-Ripalta. Il procedimento è stato chiuso nonostante il parere negativo alla compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente, la cui Commissione che ha valutato il progetto ritiene che l'opera metterebbe a rischio la nidificazione di alcuni uccelli sul litorale tra Puglia e Molise. Uno studio in tal senso tuttavia ancora non c'è e quindi l'ostacolo con molta probabilità verrà superato, anche perché il Ministero dei Trasporti ha inserito l'opera nel decreto semplificazioni nell'elenco delle infrastrutture di particolare importanza e di maggiore urgenza. L'anomalia tra le decisioni dei due Ministeri però è stata fortemente criticata dall'euro parlamentare della Lega Massimo Casanova, che parla di confusione agghiacciante del Governo, chiedendo che il progetto venga valutato dalla Presidenza del Consiglio. Sulla questione sul Blog delle Stelle sono intervenuti fra gli altri anche Antonio Federico, portavoce del gruppo alla Camera. Se vogliamo realizzare le infrastrutture che servono al Paese, dobbiamo snellire alcuni passaggi burocratici. Il progetto in questione, ha detto, è la variante di tracciato che invece di essere in affiancamento all'autostrada, su richiesta della Regione Molise, nella tratta Termoli-Ripalta, è stato spostato verso l'interno, con una maggiore spesa di 500 milioni di euro e due anni di progettazione ulteriore. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa e la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, ha aggiunto, non possono essere oggetto di sciacallaggio politico, tanto meno si possono addebitare responsabilità RFI. La Commissione Via, che ha dato parere negativo all'infrastruttura, non è quella insediata da poche settimane grazie al lavoro del Ministro Costa e formata da tecnici competenti, ma quella precedente, per lo più composta da giuristi, spesso nominati da quegli stessi politicanti di professione ed ex ministri che oggi si permettono di criticare il governo attuale, ha concluso Federico. Il raddoppio comunque, come detto, si farà, considerato che è inserito tra le opere strategiche di questo governo e, stando al progetto, non ci sarà lo spostamento della stazione di Termoli, come invece inizialmente paventato, ma uno slittamento del binario con l'utilizzo della linea per il capoluogo. Il sindaco di Larino, Puchetti, protesta invece per la mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte dello sceriffo sulla Bifernina, all'altezza dello svincolo per Larino. Sono due anni che attendiamo l'esecuzione degli interventi, dice il primo cittadino, un ponte che dall'agosto 2018, dai giorni del sisma, non è più transitabile. Attendiamo che la Regione faccia qualcosa, ha concluso, la situazione non è più sostenibile, i fondi ci sono, è arrivato il momento di intervenire. Sono ancora le parole del sindaco. E adesso torniamo a parlare della mozione di sfiducia che, come sapete, è stata respinta ieri sera dal Consiglio regionale, la maggioranza si è ricompattata, 12 i voti contrari, l'ex presidente Iorio si è astenuto, hanno votato a favore solo i consiglieri dell'opposizione del PD e del Movimento 5 Stelle. Sentiamo Pasquale Di Bello. 11 pagine di mozione di sfiducia firmate dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, la cui intenzione era quella di affondare la nave guidata da Donato Tome e tornare alle urne, hanno finito per ricompattare una maggioranza sfilacciata che in più di un'occasione è parsa sul punto di franare. Con i voti contrari del centrodestra, un astenuto Michele Iorio e quelli favorevoli delle opposizioni, la mozione è stata respinta. Dure le accuse dal parte del Movimento 5 Stelle e del PD che, in apertura di seduta, hanno contestato a Tomo un fallimento generale sia sul piano della gestione ordinaria che è straordinaria. A nostro avviso c'è un fallimento su tutta la linea, non c'è un'idea chiara, un'idea strategica di dove condurre il Molise. Sono due anni di immobilismo, due anni persi per il Molise e per i molisani, dietro alle beghe interne di una maggioranza sempre più frastagliata, sempre più divisa. Quella di oggi doveva essere una presa ad atto del fallimento politico di questa maggioranza, del fallimento su tutti i settori. Un quadro devastante su quello che i molisani pensano della regione molise e della gestione Toma. Noi siamo interpreti di un sentimento e di una convinzione ormai diffusa che non ci sono stati risultati in nessuno dei campi principali. La sanità, i trasporti, l'ambiente, il sociale, l'impresa, le politiche industriali, la visione del futuro. Una maggioranza che per due anni ha solo litigato, tentando di accontentare con degli assessori flash magari l'uomo di Pontida e non riuscendoci neanche. Un anime da parte del centrodestra il sostegno a Toma, accompagnato da una precisa richiesta a trasformare la maggioranza da numerica in politica attraverso un maggiore coinvolgimento del Consiglio regionale e la composizione della Giunta con assessori nominati solo tra gli eletti. Un appello raccolto da Toma che sul fronte della ricomposizione apre ad un'intesa con l'ex governatore Iorio. E questa la notizia politica del giorno? Un'operazione di riavvicinamento difficile ma non impossibile come gli stessi due protagonisti confermano nelle loro parole. Abbiamo avuto oggi dimostrazioni in aula di una compattezza della maggioranza chiara, trasparente e sincera, almeno dalle parole che abbiamo ascoltato. Questo significa che le minoranze avevano montato il caso per avere la possibilità di screditare quella che era la figura politica chiaramente del Presidente della Regione. La mia maggioranza non gliel'ha permesso. Il Consigliere Iorio è un contenitore di esperienza che non può essere lasciata a se stessa, non può andare dispersa, per cui è doveroso che un Presidente di Regione che ha beneficiato anche dell'alleanza in coalizione del Partito del Presidente Iorio, del Movimento del Presidente Iorio abbia un'apertura a quella esperienza che per quel che ce ne può venire di bene a noi e ai molisani può servire a questa Regione. Io non ho mai negato il dialogo a nessuno. Credo che quello che penso di questa maggioranza, l'ho detto con molta schiettezza, molta concretezza facendo degli esempi precisi, credo che se non c'è un cambiamento radicale dei comportamenti, non solo nei miei confronti, ma proprio dei comportamenti della maggioranza e anche nei rapporti con le opposizioni e il Consiglio regionale, difficilmente si faranno cose utili per il popolo molisano. Dopo la ritrovata intesa della maggioranza, la partita si chiude quindi come era prevedibile, senza colpi di scena. A conti fatti, gli unici sconfitti della battaglia appena terminata sono, paradossalmente, coloro che stanno fuori dal Consiglio regionale, gli uomini di Matteo Salvini. L'andamento del dibattito e le stesse dichiarazioni prima del sottosegretario Pallante e successivamente dello stesso Presidente Toma non lasciano molto spazio al dubbio. L'incolpevole Michele Marone è già con un piede fuori dalla Giunta, vittima del fuoco amico di un partito che ha mostrato limiti enormi nella gestione del quadro politico. C'è una novità che è questa. Loro hanno sottoscritto un documento che mi hanno fatto ricapitare, indicando precisamente una linea strategica e politica che mi hanno proposto. Io ho registrato questa proposta, la sto valutando, penso che ci saranno delle novità. Adesso siamo alla cronaca, torniamo sulla tragedia avvenuta ieri nel mare di Termoli. L'uomo di Campobasso di 54 anni è annegato. È stata aperta un'inchiesta su questa tragedia per capire se ci sono eventuali responsabilità. L'uomo era affidato ad una comunità di sostegno di Campolieto. Tutte le novità nel servizio di Manuela Iorio. Una giornata al mare a Termoli, in compagnia di altre persone per trascorrere qualche ora di relax, si è trasformata in tragedia per un uomo di 54 anni di Campobasso, Andrea De Nigris. Annegato tra le onde in un tratto di spiaggia libera tra il Lidoledun e la Loa, non coperto dal servizio di salvataggio, che invece è presente poche centinaia di metri più avanti. L'uomo era affidato a una comunità di sostegno di Campolieto e si sta accertando chi era presente tra ospiti e operatori nel momento della tragedia. La Capitaneria di Porto, che si occupa delle indagini, ha inviato un'informativa alla Procura di Larino, che non ha ancora deciso se effettuare l'autopsia. C'è da capire se la vittima abbia avuto un malore o se si sia trovata in difficoltà nel mare agitato, accertando anche eventuali responsabilità. È stato il giovanissimo bagnino del tratto gestito dal Comune, che ha visto una sagoma tra le onde si è buttato in mare raggiungendo la nuoto, mentre i compagni del 54enne iniziavano a chiedere aiuto. Impossibile uscire con il pattino per le condizioni pessime del mare, con onde alte diversi metri e correnti fortissime. Uno sforzo enorme per il soccorritore, che da solo è riuscito a portare a riva il corpo dell'uomo, a quanto pare già esanime. Il bagnino ha iniziato le manovre di rianimazione, che sono continuate con l'arrivo dei medici del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Questa mattina, nell'ovitorio del Santimoteo, è stata effettuata un'ispezione cadaverica, in attesa che la Procura prenda una decisione sull'autopsia. Emergenza coronavirus. Prosegue ancora il trend positivo in Molise. Il bollettino diffuso ieri sera dall'ASREM non segnala nuovi casi positivi. Tutti negativi i 160 tamponi processati nelle ultime ore. C'è invece un guarito in più e un appartenente alla comunità Rom di Termoli. Il numero dei casi attualmente positivi in regione scende così a 17, mentre quello dei guariti sale a 404. E nel periodo estivo, spiagge e località della costa saranno osservate speciali per garantire rispetto delle misure anti-covid. Lo annuncia il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, che parla anche della fase post-quarantena. Si appella ai cittadini chiedendo di restare prudenti. Infine si sofferma anche sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in questo delicato momento di crisi economica. La nostra intervista. Eccellenza, siamo in una fase di lento ritorno, chiamiamolo, alla normalità, anche se la normalità è ancora lontana. Tutti hanno voglia di tornare alle vecchie abitudini, soprattutto in un periodo particolare come quello estivo, il periodo delle ferie, del riposo. Però mai come in questo momento è importante tenere a mente che l'emergenza non è finita. Voi state monitorando la situazione, avete valato un apposito piano. In che cosa consiste? Allora abbiamo già fatto una riunione di comitato per l'ordine della sicurezza pubblica e proprio per attenzionare la zona riderasca della regione. L'abbiamo tenuto direttamente a Termoli e ha visto anche la partecipazione, oltre che delle istituzioni interessate, dei sindaci del territorio, quindi dei sindaci di Petacciato, Campomarino e Termoli. E all'interno di quel comitato sono state decise tutte le misure di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, ma non si è sottovalutato neanche l'aspetto sanitario. Infatti a quella riunione ha partecipato anche la dottoressa Montanari dell'ASDREM. Tutto questo per i cittadini che cosa si traduce? Ci saranno, ci sono, abbiamo già visto, molti controlli? Ovviamente sì, ci sono controlli che verranno effettuati sulle spiagge da parte della Capitaneria di Porto, ma anche dalle forze dell'ordine, che hanno il compito proprio di attenzionare non soltanto le problematiche ordinarie di ordine pubblico, ma anche tutte quelle misure di distanziamento sociale che sono necessarie anche in questa fase, perché come lei giustamente ha evidenziato prima, siamo in una fase di ripresa, siamo in una fase di uscita, ma non dobbiamo dimenticare che non siamo usciti completamente e quindi non dobbiamo dimenticare, in questo voglio appellarmi al senso di responsabilità dei cittadini molisani che hanno finora tenuto un comportamento che è veramente meritorio. Non voglio dire a loro di non abbassare la guardia e continuare a mantenere quella prudenza che è necessaria. Con un tessuto social, tessuto economico più fragile in questo momento per tutto quello che abbiamo vissuto, c'è il rischio che ci sia un terreno più fertile per la criminalità organizzata, per le infiltrazioni nella nostra regione? Ovviamente il rischio c'è. Il Ministro dell'Interno, in un'apposita circolare inviata ai prefetti, ci ha invitato ad alzare ancora di più la guardia perché a seguito della ripresa economica e anche dei finanziamenti che arrivano dal Governo centrale, ovviamente da parte degli enti locali, degli enti territoriali verranno esplitati gli appalti e quindi il rischio di infiltrazione è ancora maggiore. Però, come dico sempre, da questo punto di vista la guardia non deve essere mai abbassata e la storia dei miei tre anni qui mi permette di dire che non lo abbiamo fatto perché in tre anni abbiamo già inviato otto interdittive antimafia che hanno colpito anche aziende importanti della nostra realtà territoriale, proprio perché l'attenzione deve essere massima. Dobbiamo monitorare le infiltrazioni perché dobbiamo evitare il radicamento. Sono 6.323 le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentate dai contribuenti del Molise a 20 giorni dall'apertura del canale. 4.877 domande sono state evase, le somme già accreditate dall'Agenzia delle Entrate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani per un totale di quasi 12 milioni e 300 mila euro erogati. La maggior parte delle domande presentate provengono dalla provincia di Campobasso. Su 4.561 richieste sono stati erogati 8 milioni e 400 mila euro. In provincia di Isernia le domande sono 1.762,3 milioni e 800 mila euro circa i fondi già erogati. Adesso parliamo di scuole perché l'emergenza Covid ha finito per creare ulteriori problemi all'amministrazione provinciale di Isernia. Occorre infatti trovare al più presto una sede per il Fermi e alcune aule aggiuntive per il Majorana e il Fascitelli. Delle possibili soluzioni Ministero Di Vincenzo ha parlato con il Presidente della provincia Alfredo Ricci. Le linee guida sul Covid hanno finito per accentuare i problemi degli istituti superiori della provincia di Isernia. Le principali criticità riguardano proprio il capoluogo. Ai circa 400 studenti del Fermi rimasti per ora senza sede se ne aggiungono altri 200 del Majorana e del Fascitelli. Non c'è abbastanza spazio e sarà dunque necessario cercare un'alternativa. Il Presidente dell'ente di Via Berta, Alfredo Ricci, è a stretto contatto con i dirigenti scolastici per far sì che le lezioni inizino regolarmente il 14 settembre. Per quanto riguarda il Fermi, che per i prossimi due anni sarà interessato da lavori di messa in sicurezza, si pensa di trasferire alcune classi al Mattei, mentre le altre saranno ospitate in immobili messi a disposizione dai privati. Sicuramente dove sembra che ci siano delle difficoltà è al Majorana Fascitelli, dove gli ambienti in particolare dell'edificio del Fascitelli forse sono un po' troppo piccoli, le singole aule per il numero dei ragazzi. Stiamo cercando con la dirigente scolastica di individuare delle soluzioni alternative. Poi c'è il tema del Fermi, dove la soluzione l'avevamo trovata a fine 2019. Chiaramente adesso il sovraggiungere dell'emergenza epidemiologica ci ha costretti a trovare soluzioni differenti. Ma è scaduto lunedì l'avviso per la manifestazione di interesse ad acquisire immobili privati in locazione e gli uffici stanno esaminando le diverse domande che sono pervenute. Per affrontare questa nuova emergenza il Governo ha stanziato dei fondi, ma potrebbero non essere sufficienti. Noi siamo stati tra i primi enti in questa regione a partecipare a un bando del Ministero di qualche giorno fa. Proprio ieri è uscita la graduatoria che ha assegnato alla provincia di Sernia 500.000 euro per l'adeguamento degli edifici scolastici alle linee guida Covid. Sembra un importo notevole. In realtà, se teniamo conto che la provincia di Sernia ha nella sua competenza 9-10 plessi, 9 più 1, considerando anche i fermi, ci rendiamo conto che non è un importo molto molto alto. La situazione è complessa, ma Ricci ancora una volta rassicura le famiglie. Per noi la cosa essenziale, la priorità, è quella di dare un banco ad ogni alunno a settembre in condizioni di sicurezza e di fruibilità. La priorità è dare però questa possibilità, poi vedremo quale sarà la curva epidemiologica a settembre, però intanto il nostro compito lo stiamo portando avanti. Adesso parliamo invece di turismo, perché monta la protesta sul filmato promozionale realizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale. Protesta che arriva soprattutto dai comuni dell'Alto Molise, esclusi dal video. In particolare il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, protesta duramente e chiede che il video venga modificato. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Video promozionale del Molise, commissionato dalla Presidenza del Consiglio regionale. Interviene Candido Paglione, sindaco di Capracotta, che dice Così si rende un cattivo servizio al Molise e si sperpera denaro pubblico. E' necessario un salto di qualità. E non si placano le polemiche sullo spot video della Presidenza del Consiglio regionale, che dovrebbe promuovere l'immagine del Molise sui palcoscenici nazionali e internazionali. Le maggiori discussioni sono avvenute sulla circostanza che nel video, una larga fetta della provincia di Isernia, è stata di fatto esclusa. Una scelta inspiegabile, visto che proprio la provincia alto molisana presenta diverse tra le eccellenze regionali in tutti i settori. Sia per il patrimonio storico architettonico, sia per le testimonianze più antiche, con l'unicum del Paleolitico, Pietrabbondante, San Vincenzo al Volturno ad esempio, sia per la ricchezza delle tradizioni enogastronomiche. Ma anche solo a cercare di elencare le potenzialità della provincia di Isernia si corre il rischio di dimenticare qualcosa di rilevante, tante sono le sue bellezze. A dirlo è il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. Al di là di alcune esclusioni eccellenti, che pure gridano certamente vendetta, credo che l'intera operazione renda un pessimo servizio al Molise intero e alle sue eccellenze. Il vero punto di domanda però è un altro. Dove, come e quando sarà veicolato lo spot? Qual è il budget a disposizione? Esiste un piano pubblicitario serio? E, elemento ancora più grave, ammesso e non concesso che quelle immagini, sia pure monche incomplete, riescano ad attirare qualche turista o visitatore, come farà costui ad arrivare in Molise? Con il sistema dei trasporti che abbiamo sarà impresa ardua. Per non parlare della ricettività turistica. E, insomma, accusa Paglione, se le immagini dello spot suscitano scalpore, è l'intera idea di promozione del Molise, che in questo modo appare scollegata dal territorio regionale. Per questo, credo, sia indispensabile uno scatto di orgoglio e un deciso salto di qualità. Altrimenti, continueremo a riempirci la bocca e a sperperare prezioso denaro pubblico senza alcun effettivo ritorno. E chi invece l'ha ottenuto e sta ancora ottenendo una eccezionale ribalta a livello mondiale, il comune di San Giovanni in Galdo, finito sotto i riflettori della stampa internazionale grazie al progetto dei soggiorni gratuiti offerti in paese. Sono arrivate più di 5.000 richieste. Questa settimana, nel piccolo centro, i primi turizi sono arrivati da Padova, Torino e Latina. Altri ne arriveranno tutte le settimane per tutta l'estate. Sentiamo Tonino Danese. Il progetto Regalati il Molise ha suscitato l'interesse della stampa nazionale e internazionale come la BBC, The Telegraph, The Sun, la tedesca ZF, ma anche media spagnoli, polacchi, turchi, brasiliani. Le risposte al progetto Regalati il Molise, messo in campo dal comune e dall'associazione Amici del Morrutto, sono state tante nel giro di poche ore dal lancio ufficiale sul sito della stessa associazione, persone interessate a venire in Molise, da nord a sud dell'Italia, ma anche da Irlanda. Allora, mi dicono dalla legge che c'è un problema su questo servizio, lo vediamo tra poco. Intanto andiamo avanti con il giornale. Alla sua uscita, lo scorso primo dicembre, aveva già assegnato un record con 35 presentazioni in due mesi. E' la prima edizione esaurita in meno di tre settimane. Figli del Toro, l'ultimo libro dello scrittore molisiano Nicola Mastronardi, prequel del fortunatissimo Vitelliuda, subito è stato accolto con entusiasmo e interesse dal pubblico e per tutto questo che adesso è forte l'attesa per la ripresa delle presentazioni del libro dopo il lungo stop per l'emergenza sanitaria. Con l'avvento dell'estate, la ripresa graduale della vita culturale, gli inviti per Mastronardi e il suo nuovo libro prodotto da Flevoro Vitali per Volturnia Edizioni sono già moltissimi. Si riparte il 18 luglio ad Altilia, poi sempre a luglio il 25 a Billetta Barrea, il 26 a San Martino in Pensilis. Ad agosto l'8 e il 22 di nuovo ad Altilia, il 17 a San Giovanni Lipioni, il 18 a San Salvo, il 19 a Roccaraso. Cambiamo argomento, uno dei primi problemi che dovrà risolvere il nuovo Consiglio Comunale di Boiano sarà quello dell'appalto in modalità Project Financing dell'ampliamento dei due cimiteri della città Matesina. Ci potrebbe essere un potenziale conflitto di interessi. Vediamo perché in questo servizio. Sarà una delle prime grane con cui dovrà confrontarsi il nuovo sindaco di Boiano che verrà eletto a settembre. Si tratta del progetto finanziario per l'ampliamento dei due cimiteri della cittadina Matesina, quello centrale e quello della frazione Monteverde. Non ci sono più posti in nessuno dei due cimiteri e il commissario prefettizio ha dato il via alla procedura per reperire un progetto di finanza valido che potesse sopperire alle difficoltà economiche del comune di Boiano. Progetto di finanza significa che un'impresa si impegna a investire il suo denaro per fare i nuovi loculi, riscuotendo poi direttamente il dovuto dagli stessi acquirenti. Ma, come evidenziato dal sito East News in una sua inchiesta, a Boiano non tutto sembrerebbe in regola. Lo scorso 15 maggio il commissario prefettizio ha infatti adottato la delibera del progetto di 4,5 milioni di euro. E come si legge nel documento, si tratta di una proposta precedentemente avanzata da un'impresa privata con sede a Vinchiaturo. Ma i nuovi loculi e l'ampliamento del cimitero di Monteverde non rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche, pur trattandosi di opere in concessione. La conferma arriverebbe dalla lettura della delibera commissariale numero 24, dove è scritto di subordinare gli effetti della dichiarazione di pubblico interesse all'inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell'elenco annuale 2020, mediante futura approvazione da parte del Consiglio Comunale. Ma c'è un aspetto da evidenziare che dovrà affrontare proprio la nuova amministrazione. Tra gli elaborati richiesti dalla legge ai fini dell'ammissibilità, il Codice degli Appalti richiede espressamente la relazione economico-finanziaria asseverata da un istituto di credito e tra i documenti approvati stando alla delibera commissariale e stando a quello che scrive Isnews, questo documento mancherebbe. Infine, altro problema non di poco conto, quello di un potenziale conflitto di interessi. Infatti, tra i professionisti incaricati della redazione del progetto, c'è un architetto che avrebbe avuto rapporti di collaborazione con lo studio tecnico di un geometra parente diretto del responsabile del settore dei lavori pubblici. Isnews si chiede se il responsabile del settore comunale avesse dovuto astenersi o meno dal procedimento per un potenziale conflitto di interessi. Sicuramente il diretto interessato si sarà comunque posto il problema e avrà agito di conseguenza, ma sono tutti nodi che dovrà sciogliere la prossima amministrazione comunale di Boiano. Bene, adesso prima di chiudere siamo in grado di proporvi il servizio sui primi turisti arrivati a San Giovanni in Gallo, servizio di Torino danese. Il progetto Regalati il Molise ha suscitato l'interesse della stampa nazionale e internazionale come la BBC, The Telegraph, The Sun, la tedesca ZF, ma anche media spagnoli, polacchi, turchi, brasiliani. Le risposte al progetto Regalati il Molise, messo in campo dal Comune e dall'Associazione Amici del Morrutto, sono state tante nel giro di poche ore dal lancio ufficiale sul sito della stessa associazione persone interessate a venire in Molise, da nord a sud dell'Italia, ma anche da Irlanda, Australia, Canada, Marocco, Giappone, Germania, solo per citare alcune nazioni. Intanto in questi giorni sono arrivati a San Giovanni in Gallo i primi turisti da Padova, Torino e Latina per trascorrere un soggiorno gratuito di sette giorni in una delle abitazioni messe a disposizione con calorosa accoglienza per far sentire l'ospite da subito parte della comunità. Sabato arriveranno altri turisti, il piccolo Comune alle porte di Campobasso, base per partire alla scoperta del nostro territorio e spendere in Molise. Sono arrivate inaspettatamente oltre 5.000 mail e gestirle tutte, per noi che siamo una piccola associazione richiede molto tempo, hanno spiegato gli amici del Morrutto. Intanto abbiamo confermato il soggiorno a San Giovanni in Gallo, alle persone risultate assegnatarie per le prime settimane. Nei prossimi giorni contatteremo quelle selezionate per i restanti soggiorni. Dal sito dell'associazione anche un messaggio di ringraziamento a quanti si sono candidati ai quali sarà data risposta, in cui verranno comunicati progetti futuri ed eventuali nuove proposte di ospitalità. A chi ha voluto rispondere al progetto era stato detto di indicare le motivazioni alla base della decisione di soggiornare a San Giovanni in Gallo. Ebbene, toccante la mail di una persona che aveva perso entrambi i genitori per coronavirus e ha chiesto di poter trascorrere qualche giorno di tranquillità nel piccolo paese molisano. In molti poi hanno manifestato l'intenzione anche di pagare il soggiorno e di arrivare in camper. I promotori dell'iniziativa hanno intenzione di creare una rete di ospitalità coinvolgendo altri sindaci, proloco, associazioni. Bene, noi abbiamo concluso. Io vi lascio alle televisioni del tempo. Subito dopo le notizie sportive, tra mezz'ora, come sempre alle 15, c'è il nostro TG Flash del pomeriggio. A più tardi, buona giornata. Grazie.